Ciao a tutte, oggi sono andata a fare un po' di shopping come potete vedere e volevo farvi vedere quello che ho preso. Allora partiamo da queste, sono delle mollette di legno che presumo si usino principalmente in America ma non sono sicura. Comunque niente, mi piacevano tantissimo e quindi pensavo di usarle come decorazione, insomma trasformarle in qualcosa. Se avete delle idee scrivetemele pure nei commenti perché io ho un'idea ma come vedete ne ho tante per cui mi aiutate a capire cosa farne. Poi ho comprato questi occhietti mobili perché comunque servono sempre per qualunque tipo di creazione. Dei pompon, anche questi bisogna sempre averli in casa. Poi ho trovato queste cose che sono abbastanza carine, sono dei bottoni di legno. Non so ancora come usarli ma sicuramente qualcosa mi inventerò. Poi ho trovato questa cosa particolarissima che sono dei dadi e pensavo di utilizzarli per creare un gioco. Adesso devo pensare un attimino ai disegni, ho già l'idea in testa, devo solo capire come realizzarla e poi ve la mostrerò sul blog. E poi ho fatto scorta di queste che sono, si chiamano goffratori, custelle manuali, vedete? E ho preso la forma di stella, questo che è una specie di fiore, poi ho preso la corona e la farfalla. Vi consiglio, quando decidete di acquistare questo prodotto, di verificare che sia abbastanza largo da potervi inserire dentro la gomma crepla. Vi dico questo perché esiste un tipo di gomma crepla, come questo, che è adesivo e quindi potete crearvi da sole in casa gli adesivi per poi far giocare i bambini o piuttosto che utilizzarli come decorazioni. Quindi semplicemente inserite la gomma crepla, schiacciate e vedete che vi esce in questo caso una stellina adesiva. Allora, la gomma crepla adesiva vi dirò che è abbastanza difficile da trovare, ma oggi sono riuscita a trovarne addirittura due fogli, uno rosso e uno nero. Infatti questa è tutta la gomma crepla che mi sono comprata oggi. Come potete vedere, questa è quella nera che vi dicevo adesiva, ho trovato tantissimi colori e ho fatto scorta perché sicuramente li userò a breve. E poi volevo farvi vedere anche questa, che è una novità, io non l'avevo mai vista prima, è gomma crepla ondulata con i disegni. Anche questa ho già un'idea di come utilizzarla. E infine ho preso il pannolenci o feltro, non ho mai capito qual è il nome corretto, in due colori. Quindi vedete che ho fatto scorta, per cui continuate a seguirmi sia su facebook che su instagram che sul blog, mi trovate sempre come bimbi creativi. Ciao ciao!